Guardate questo luogo, è un posto bellissimo di belvedere, diciamo. Si chiama Wagamon. Si chiama Wagamon, è nella strada per andare a vedere la parte della montagna del Kerala e sempre fa parte del distretto di Iriki. È stupendo, guardate quanto è profondo e anche il belvedere è quello che c'è, è unico nel mondo. Pure il clima è normale, adesso nel marzo c'è un caldo, però l'altro mese è uguale all'Europa, il clima di... Si, la temperatura è molto piacevole. Si. Ok, va bene, grazie. Ok, va bene. Ok, va bene. Ok, va bene. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.